La mia madre è un tantino, un tantino nervosa, ma tu sei assunto da me e lavori per me. Lei ti vuol dire tutto quello che vuole, ma non ti può necessario. Io non vorrei essere dei tuoi panni, eppure se il nostro signore venisse giù a chiedermelo di persona. Non ho bisogno di ti, non ti voglio, e non mi piace che tu mi dia mi regga. Più vai piano e più risparmi benzina. Stiamo quasi fermi, ma tu vorrei mandarci a me. Buongiorno Miss Daisy. Tu lascia stare il mio aione. Sono pazzo per le case con le fotografie Miss Daisy. Non mi va che tu fichi il naso delle mie cose. Hai sbagliato a svolgere un bell'aric. Ma c'era anche lei con me Miss Daisy, e c'era lei la carta. Io non sono un ragazzino Miss Daisy, e poi non sono solo io. Il berretto che lei ha davanti, mentre si fa portare a spasso dove le pare. Sei il mio migliore. Ma no, andiamo Miss Daisy, lei la carta vera. Lo sei. Hai fatto revisionare l'aria condizionata? Ti avevo detto di farla revisionare. Sì, sì, ho fatto revisionare l'aria condizionata, ma lo so mica perché. Lei non me l'ha mai fatta accendere. Sta giù. Lei non me l'ha mai fatta accendere.